Buongiorno a tutti sono Davide Brovelli del ristorante Sole di Ranco. Ranco è un piccolo paesino sul Lago Maggiore e la mia famiglia è ristoratrice da 150 anni quindi abbiamo albergo e ristorante. Oggi per la quinta edizione di Top Chef Ventura 2014 vi presento questo lavarello spaccato burro e salvia leggermente impanato al pistacchio servito con un purè di sedano rapa, è una salsina acidula profumata a scalogno e limone. Passiamo a impanare leggermente il lavarello con il pistacchio, il lavarello viene squamato, pulito e filettato e lo mettiamo in pentola dalla parte della pelle con burro, salvia e un goccino d'olio d'oliva, in questo modo. Una volta in pentola abbiamo bisogno di una cottura più o meno di due minuti, due minuti e mezzo dalla parte della pelle e un minuto e mezzo dalla parte interna del pesce. Vedete che non è impanato con farina e nient'altro, bisogna stare attenti a non bruciare troppo i pistacchi se no diventerebbero troppo amari. Ok, un minuto di cottura e il pesce pronto. Andiamo a finire il nostro lavarello spaccato con questa maionese acidula profumata con lo scalogno e limone e facciamo una piccola quenelle sul lato del piatto. Il nostro purè di sedano rapa che viene cotto solamente con un goccio di latte. A questo punto andiamo a disporre il nostro lavarello che abbiamo spadellato con il pistacchio, in questo modo, con un pezzettino di pane croccante, la nostra fettina di lavarello e andiamo a finire il piatto con questo burro noisette e della tapioca. Avete visto che comunque è un piatto semplicissimo, lo potete fare tranquillamente a casa e siamo pronti.